benvenuti amici allora parliamo di 4 dbuddy questa volta però però il prezzo che ai quali il prezzo per il quale vengono venduti sono 50 euro compreso di spedizione 4 dbuddy ma quali sono questi dbuddy andiamo a vedere perché sono secondo me tra i più belli in assoluto allora abbiamo rai cosby con impossible close up magic e impossible card magic chi conosce rai cosby sa che il materiale contenuto in questi dbuddy sono semplicemente opera d'arte signori davvero sono per tante due dbuddy che vanno da soli al costo di tutte e quattro quindi rai cosby con impossible close up magic e impossible card magic e joy in the flash con extreme card magic volume 1 anche qua l'artista parla da solo ci sono tre act nel primo dbuddy e quattro act nel secondo dbuddy per act si intende credo l'unione di delle routine spiegate perché da quello che leggo sul retro per esempio leggo leggo card act number one e ci sta magic coin termade omnicard alfamore rising e process of elimination quindi presumo che ogni frame racchiuda x due routine quindi ripeto questi quattro dbuddy che sono qualche cosa di vero di indescrivile per la bellezza e per l'alto contenuto professionale anche se difficile 53 prospedizione comprese ripeto rai cosby volume 1 e 2 e jory in the flash volume 1 e 2 per oggi è tutto ciao alla prossima